Nelle ardenne per te, al primo anno di World Tour, terzo posto, che sensazioni? Beh diciamo che sono ancora in credula di questo piazzamento, devo ringraziare la squadra che ha creduto in me fin dall'inizio proteggendomi in tutta la gara, ho avuto anche un problema nel penultimo giro, però mi hanno fatto sprecare il minimo delle energie sono riuscita ad arrivare ai piedi del muro nelle prime posizioni e a prenderlo con le prime, quindi arrivare alla terza sono davvero contenta per questo Hai parlato della squadra, una squadra che fin da ieri comunque è stata molto vicina, insomma tanti si aspettavano di vederla alla prova del muro e una prova superata Sì diciamo che tutti quanti dicevano no, la gara è fatta per te, il muro sicuramente potrà giocarti le tue carte la squadra ha creduto in me e ieri quando diciamo abbiamo parlato nella riunione dove ha detto no no, proteggeremo Gaia fin dalle prime battute, ho detto wow, e quindi hanno creduto in me e sono contenta per questo Allora Gaia, adesso i prossimi appuntamenti ci saranno a Liegi con la quale ti misurerai e poi? Sì, domenica alla Liegi e poi andrò alla Vuelta